Ben ritrovati ad Avanzi in Aesthetic. Oggi vi proporrò un intervento di riduzione delle rughe del terzo superiore del volto con una tossina botulinica di tipo A dedicata nella fattispecie a Zalura. Grazie per la visione! Ecco l'intervento è appena terminato, la paziente non ha né lividi né chimosi, i risultati tra 15 e 20 giorni.